Eccoci qui, Ministero dell'Istruzione, abbiamo il Ministro Giuseppe Valditara. Buongiorno Ministro. Buongiorno a voi. Ha più volte chiarito che il merito non è escludere o selezionare, ma il merito è tirar fuori il meglio da ogni studente. Come si fa quando però lo studente è riluttante, è in difficoltà, la famiglia non lo segue, quando è disinteressato allo studio? Noi abbiamo proprio lanciato la figura del docente tutor, che tra l'altro ha avuto un successo incredibile. Il 99,8% di scuole ha risposto positivamente. Credo che in tutta Italia soltanto 8 scuole non abbiano partecipato a questa sperimentazione. Oltre 52 mila docenti si sono iscritti su una richiesta da parte nostra di 37 mila tutor. è una figura che io ritengo sia molto importante proprio per personalizzare la formazione, per far sì che d'intesa, in accordo con gli altri colleghi, si possa costruire un percorso per far sì che il ragazzo che ha problemi possa recuperare, anche con quella didattica extracurricolare. Infatti abbiamo trovato per la prima volta le risorse, non solo per pagare il docente tutor, ma per pagare anche quegli insegnanti disciplinari che di pomeriggio, piuttosto che anche durante le vacanze estive, per esempio, potranno costruire quel percorso di personalizzazione per far sì che il ragazzo che ha un ritardo nell'apprendimento di determinate materie possa mettersi alla pari, oppure anche, perché no, il merito è anche questo, valorizzare i talenti di ciascuno, far sì che quei ragazzi che in classe si annoiano, perché sono già più avanti, possano accelerare nel loro percorso. Quindi questa è la risposta, la risposta insieme con il docente orientatore per consentire ai genitori, alle famiglie e agli studenti di fare le scelte opportune per quanto riguarda il loro futuro percorso formativo in relazione anche agli sbocchi professionali. Crede che siano nei prossimi mesi, fino alla fine della vostra legislatura, sia opportuno anche che altri ministeri supportino la scuola. Si dice spesso che la scuola da sola non ce la può fare sul fronte della dispersione. Avete appena, ad esempio, al Sud presentato un progetto, un megaprogetto, l'Agenda del Sud, Catanzaro in particolare, la prima volta che un ministro presenta un progetto così imponente, così importante per combattere la dispersione. Quali sono le prospettive e molto importante io credo che sia anche comprendere, capire se vi sia il supporto di altri ministeri, di altri dicasteri, perché la scuola ha bisogno di aiuto anche da altri punti di vista, da altri fronti. Noi abbiamo lanciato una grande sfida proprio per combattere la dispersione scolastica, ma soprattutto per consentire a tutti i ragazzi italiani, a prescindere da dove vivono, di poter raggiungere gli obiettivi formativi per essere cittadini attivi e anche per trovare un posto di lavoro che li soddisfi. L'Italia, purtroppo, sappiamo, è spaccata in due. Da questo punto di vista, noi vogliamo mettere la parola fine a questa spaccatura. Da qui la sperimentazione in dieci punti, lo abbiamo presentato in questo progetto in Calabria, ma ovviamente riguarda tutte le regioni del Mezzogiorno. D'intesa con l'Invalsi abbiamo individuato 210 scuole, probabilmente riusciremo a trovare nei prossimi giorni ulteriori risorse per estenderlo ad altre scuole ancora. Partirà già da settembre questo percorso con più insegnanti nelle scuole individuate, con corsi di formazione specifica per quei docenti che insegnano in quelle scuole coinvolte, con più soldi per pagare le attività extracurricolari che i docenti svolgeranno per supportare i ragazzi, per potenziare l'offerta formativa, con il coinvolgimento delle famiglie e dei genitori. Insomma, ci sarà anche l'estensione del tempo scuola, con il tempo pieno in tutte queste scuole. Insomma, una vera e propria rivoluzione che, se funzionerà, sarà estesa a tutte le scuole del mezzogiorno che in qualche modo manifestano criticità o che si trovano in aree disagiate. C'è poi un altro tema collegato a questo, internazionalizzare questi percorsi, queste buone pratiche. Ne ho parlato già con il Ministro francese dell'Istruzione, perché anche loro hanno problemi analoghi ai nostri. Voglio portare queste nuove buone pratiche anche sul tavolo di Bruxelles, in modo che si possano condividere e recepire dagli altri governi suggerimenti, ma anche dare, e l'Italia per la prima volta credo che possa essere un esempio con questa sperimentazione certamente molto stimolante e molto interessante. Con gli altri ministri la collaborazione è eccellente. Voglio solo citare, per esempio, il Ministro dello Sport. Stiamo varando una serie di interventi importanti per garantire, coinvolgere sempre di più i ragazzi nello sport. Lo sport anche come strumento di recupero della dispersione, come momento di valorizzazione dei giovani e anche come trasmissione di valori importanti. C'è una novità per gli insegnanti, per il personale della scuola. L'assicurazione cosiddetta unica, ci spiega che cos'è? Sì, per la prima volta abbiamo introdotto l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, anche in itinere, cioè anche il personale che si reca a scuola e Dio non voglia si dovesse slogare una caviglia o rompere una gamba. Ecco, questo è un caso di operatività dell'assicurazione contro gli infortuni. Tutti i dipendenti pubblici avevano questa assicurazione, tranne le persone della scuola. Noi, in collaborazione con il Ministro del Lavoro Marina Calderone, abbiamo esteso a 1.200.000 persone questa assicurazione. Ma non solo, abbiamo esteso questa assicurazione anche agli studenti per qualsiasi incidente dovessero avere la scuola, anche durante le gite scolastiche. Prima erano le famiglie che dovevano affrontare questo onere, oggi invece sarà a carico dello Stato. Sì, Ministro, ma qual è lo spirito poi in definitiva di questa assicurazione? Beh, rientra in quell'insieme di riforme che abbiamo avviato per ridare autorevolezza ai docenti. Sin dall'inizio del mio mandato ho sottolineato come mio obiettivo sarà quello di riportare nella società e nelle scuole l'autorevolezza per tutti i docenti e per più in generale i personali della scuola. Ridare autorevolezza ai docenti significa difenderli contro le aggressioni, significa aumentare il contratto, significa dare a loro un'assicurazione di cui prima erano sprovvisti. Lo dissi nell'incontro con i sindacati quando iniziamo a parlare dell'alternanza scuola-lavoro e di come rendere più sicuro il percorso di alternanza scuola-lavoro, dissi non ci dobbiamo limitare a questo, dobbiamo garantire condizioni di sicurezza sul lavoro a tutto il personale della scuola. Questa mia promessa l'abbiamo mantenuta e abbiamo dato un segnale di attenzione importante. Bene, ringraziamo il Ministro Valditara. Grazie a voi. Grazie a voi.